Nuovi fondi per l'autoimpiego in Puglia. Se ne è parlato questa mattina nella sede della Confcommercio di Taranto. Le opportunità si chiamano nidi e microprestito di impresa. Come ha spiegato Pierpaolo Caliandro, responsabile della funzione Informazione e Reti Territoriali di Puglia Sviluppo, il nidi è lo strumento con cui la Regione Puglia offre un aiuto per l'avvio di una nuova impresa con un contributo a fondo perduto e un prestito rimborsabile. Il microprestito di impresa consiste in un finanziamento per realizzare nuovi investimenti rivolto alle microimprese pugliesi già operative e non bancabili. Giovanni Semeraro, concessionario d'aria Mailbox, Regioni Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia, ha spiegato le caratteristiche del franchising. Oggi presenteremo sia la proposta Mailboxes che, con l'intervento del dottor Caliandro, quelle che sono le agevolazioni previste dai due bandi, quindi sia nidi che il microcredito. Presenta all'incontro anche il presidente di ConfCommercio, Leonardo Giangrande. Io credo che questa iniziativa sia molto importante, rivolta verso i giovani, perché riteniamo provare a dare anche una strada, un aiuto, un sostegno a questi ragazzi che molte volte non sanno a chi rivolgersi. ConfCommercio creerà uno sportello tre volte alla settimana per quanto riguarda il discorso legato alle informazioni verso il mondo del franchising e questa è la notizia importante insieme alle altre, dove sicuramente questi ragazzi possono venire e chiedere tre volte alla settimana e gli verrà spiegato tutto l'insieme di cose che possono essere fatte attraverso il franchising. Questa è un'opportunità in più che ConfCommercio prova a dare ai ragazzi, in sinergia con le opportunità anche legate ai finanziamenti, che sono quelle che si diceva prima, il microcredito, i nidi, e le opportunità che servono per dare anche le risorse per questi ragazzi perché molte volte hanno le idee ma non hanno il sostegno e quindi la possibilità di realizzarli. Qui ConfCommercio, come sempre, prova a essere un trade union tra le esigenze dei ragazzi e la finanza, perché comunque deve essere finanziato l'eventuale progetto e, in sintesi, creare le condizioni perché si possa creare qualche opportunità di più per questi ragazzi che possono entrare nel mercato attraverso una linea di franchise in questo caso ma per altre anche iniziative e quindi lo sportello tre volte alla settimana quando vogliono noi siamo a completa disposizione di chi vorrà farne uso. Valentina Talò di Confidi Commercio Puglia ha relazionato sui servizi di supporto alle imprese.